Puliamo il mondo, la storica iniziativa di Lega Ambiente che ogni anno coinvolge tanti volontari di tutta Italia impegnati a ripulire gli spazi urbani e le aree verdi dai rifiuti abbandonati, quest'anno compie 25 anni. Al centro dell'edizione 2017 il tema dell'economia circolare, l'economia del futuro. Intanto per l'occasione sono stati premiati i comuni pugliesi virtuosi che partecipano all'iniziativa sin dalle sue prime edizioni, ossia Corato, Barletta e Bari. Vediamo. Come ormai da tradizione da un quarto di secolo, volontari di tutta Italia si danno appuntamento nell'ultimo weekend di settembre 22, 23 e 24 con l'obiettivo di pulire il mondo. Armati di guanti, rastrelli e ramazze sono pronti a ripulire parchi, strade e periferie dai rifiuti, raccontare l'economia circolare e promuovere la creazione di rete tra cittadini di ogni età e provenienza nell'ambito di Puliamo il mondo, la storica iniziativa di Lega Ambiente che quest'anno compie 25 anni. Per festeggiare questa ricorrenza nel corso di una conferenza stampa che si è svolta a Bari, Lega Ambiente ha premiato i sindaci delle amministrazioni pugliesi che aderiscono all'iniziativa sin dalle prime edizioni. Il comune di Corato che partecipa dal 1996, il comune di Barletta, insignito del premio Comuni Ricicloni 2016 ed impegnato ad aumentare la percentuale di raccolta differenziata, oggi pari al 70%, e il comune di Bari che da oltre dieci anni partecipa a Puliamo il mondo e che ha avviato nei mesi scorsi nei quartieri di Palese e Santo Spirito il porta a porta che ha raggiunto quota 65%. Premiato anche l'impegno del Circolo Lega Ambiente di Trani e di Cassano delle Murge. Intanto tante l'iniziativa in programma nell'edizione 2017 di Puliamo il mondo che interesseranno tutta la Puglia da San Giovanni Rotondo a Gallipoli. Tra queste ritorna Alta Murgia Pulita che vedrà il coinvolgimento dei volontari nei comuni di Andria, Corato, Bitonto, Cassano delle Murge, Grumo Appula, Poggiorsini e Sant'Eremo in Colle. Ma non solo perché il 24 settembre invece toccherà a Torre Guaceto dove i volontari si mobiliteranno per ripulire parte della riserva e liberare una tartaruga caretta caretta. E poi una novità, per la prima volta infatti nasce la collaborazione tra Anas e Lega Ambiente. Quest'anno c'è anche una novità, c'è un accordo, una collaborazione con Anas per pulire anche delle piazioni d'emergenza e alcuni raccordi autostradali di competenza dell'Anas perché i rifiuti che finiscono ogni anno sulle piazioni di emergenza sono tanti e oltre che costituire un degrado rappresentano anche un pericolo per la circolazione veicolare. Un tema quello di quest'anno dedicato all'economia circolare del futuro e rigenerativa che però in Puglia stenta a decolare, dice il presidente di Lega Ambiente Puglia Tarantini, considerando che i comuni ricicloni sono ancora pochi e che oltre il 50% dei rifiuti finisce ancora in discarica. Per non parlare degli impianti di riciclaggio e di compostaggio che devono essere ancora realizzati. Una manifestazione, quella di Puliamo il Mondo, che si muove lungo lo stesso solco dell'assessorato regionale all'ambiente, ha detto l'assessore Arramo Filippo Caracciolo, ideatore della proposta di creare una rete di assessori comunali all'ambiente per valorizzare le migliori esperienze in materia di differenziata, senza dimenticare lo stanziamento regionale di un milione di euro per le attività di pulizia delle strade extraurbane per contrastare il fenomeno degli abbandoni di rifiuti lungo le strade. Diverse iniziative che vengono promosse provano a mettere in risalto il valore dei sacrifici che i cittadini compiono giornalmente e amministrazioni virtuose, da questo punto di vista capaci di recepire le indicazioni dell'amministrazione regionale e portare sul territorio tutti quei valori ambientali che migliorano il rapporto cittadino-comunità-amministrazione.